ciao toro benvenuto sul mio youtube canale dei talents talta roba che ci trovi su questa lettura per metà aprile 2024 per l'amore ti chiedo toro di non far forzare questa lettura se non ti corrisponde questa lettura generale se una lettura privata con me trovi tutte le informazioni sul mio infobox vediamo che succede per te toro per la metà di aprile ma l'oftim datemi per il mio toro cosa si può aspettare la ruota della fortuna il cavaliere di denari la luna l'asso di coppe 3 di coppe per l'ostacolo 3 di bastoni 10 di denari l'asso è il cavaliere di bastoni hai capito toro 4 di bastoni ah finalmente un po di di allegria chi va piano va lontano mi esprimi esattamente chi va piano va lontano però c'è qualcosa dentro di te toro che vorresti accelerare però alla fine lo stesso una circostanza ti mette un po a freno no ti frena però poi tu ci rifletti e mi confermi che va piano va lontano e va anche a tuo favore quello è il bello che va a tuo favore vediamo dammi il cavali di bastoni il mago la luna la morte si si vorresti andare più veloce se la vedresti se sarebbe un po più chiara per te siccome ancora non è qualcosa chiara o non ti porta ancora a 100 per cento di illuminazione allora tu stessa o tu stesso ti dici no io invece andiamo piano affinché ci vedo affinché vedo interagisco la vedo un più chiara la vedo più più luminosa no mi piace perché imparato con la stella di torno tu mi dici ho imparato accetti anche questo freno affinché vedi dammi la ruota della fortuna re di bastoni 9 di spade 5 di bastoni dammi il cavaliere di denari 3 di bastoni 10 di denari lo prendo qua e 6 di bastoni di una parte tua vorrebbe subito prendere fare dire interagire riacciapparla ridarla rifarla no veramente essere veramente come un torero no come un torero con un torero no tipo combattere perché se quando sei preso o sei presa toro tu combatti ti piace quel quella grinta avere si queste mille la desideri quando la desideri no però no stanno cambiando i ritmi di nuovo non lo fai non lo fai consciemente perché è come che vorresti desideresti dirgli ai farla di farla qualcosa più veloce però questa volta mi presenti tranquillità mi presenti chi va piano va lontano mi presenti so quello che sto fare so quello a cosa posso dare e di conseguenza verrò anche risposta o risposto non sono costretta o costretta o costretto a fare tutto io vediamo l'altra energia come mi rispondi vediamo l'altra situazione persona come mi viene incontro a non dare tutto subito si sa tutto oro sei molto espansivo no se dai molto è capito che no vediamo che anche gli altri un'altra situazione come ti viene risposta ti do un esempio prima facevi tu le prime telefonate o le telefonate le facevi sempre prima tu invece adesso aspetti affinché qualcuno ti fa a te una chiamata tanto banale può essere no però per te importante prima prendevi tu il telefono e chiamavi subito invece adesso no vediamo come qualcuno interagisce dammi l'asso di coppe per il futuro asso di denari la high priest e tre denari esattamente e di conseguenza rispondi mi piace finalmente mi piace perché di conseguenza rispondi non si sta parlando di ribellione di fare dispetti no per niente di conseguenza rispondi a come ti viene data a cosa ti viene data e se ti piace e ti piace rispondere allora lo fai dammi il tre di coppe per il per l'ostacolo il sole la temperanza sei di spade sì perché ti vuoi la tranquillità e siccome vuoi la tranquillità poi ti è richiesta di andare non è una strategia è richiesta di avere un cambiamento non vuoi che le persone una situazione pensa male di te perché tu sei ormai tu sei abituata o abituata a dare sempre subito no e tu hai un po di una cosa che ti ostacola e cosa spero che non pensano male no che lo stesso pensano bene di me anche se non sono io più che faccio il primo passo ma va bene così di capire a cosa do ricevo a cosa ricevo io do dammi 3 di bastoni 6 di coppe ragazzo di bastoni 8 di coppe questo è per cosa non vedi hai dovuto toccare il basso toro per riemergere per riaverla per riaggiustarla per raggio di aggiustare il tiro hai dovuto andare veramente proprio tu sei cambiato o cambiata però di conseguenza tu rispondi ti sei anche un po stufato di aspettare però vuoi essere anche tu desiderato e la il desiderio che grande di essere desiderato di farti desiderare quello può anche essere di farti desiderare vediamo a quel punto una persona veramente mi desiderano o è solo superficie si fa subito dire mi manchi si fa dire si fa subito a dire ti voglio ti desidero ma fin qual punto lo lo pensa veramente no ho capito dammi 10 di denari per cosa si può aspettare toro la regina di denari il ragazzo di coppe e l'asso di spade il re di coppe sotto il mazzo non da tutto non da più tutto a tutto scontato però neanche gli altri devono più darti per scontato o per scontata io lo chiamerò così questo questo video questo questa lettura e di conseguenza rispondi vuoi essere messo in una posizione di alto livello perché anche tu sai di farcela anche tu sai di dare a situazione persone di un altro livello di mettere persone in alto il livello lo sai fare benissimo toro però la vuoi fare lo vuoi essere fatto anche con te per questo non vai più a compromessi e sono veramente orgogliosa di te toro veramente mi piace questa lettura mi piace tanto dammi per favore un consiglio per il mio toro 8 di bastoni 5 di denari e 5 di spade sì perché capito non tutti sono il tuo stesso livello hai capito che non tutti hanno la stessa il stesso carattere che va bene anche così però ha imparato tanto tra tutti questi alti e bassi no ed anche di soffrimento non di abbandono vuoto anche io mi sono cosa non ti è uccita e ti fa ti fa più forte e di conseguenza rispondi mi piace toro un grazie mille un like se ti è piaciuto noi ci vediamo domenica con la mia lettura domenicale un caro saluto dalla tua luana ciao ciao